Tre donne uccise in meno di un mese. Ruan Abi, a Torino. Celeste Palmieri, a Sansevero, in provincia di Foggia, la mia città. L'ultima a Civitavecchia, Carmela Ion. Tre donne uccise, nonostante gli uomini che le perseguitavano e le minacciavano, avessero il braccialetto elettronico alla caviglia. Già il 27 settembre scorso, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, il Governo aveva rilevato delle criticità legate alle connessioni di rete, ai tempi di attivazione e parlava di soluzioni tecniche che sarebbero state richieste al fornitore di questi braccialetti e a chi garantisce la connessione. Ebbene, le forze dell'ordine già da tempo continuavano e continuano a segnalare disservizi e malfunzionamenti, falsi allarmi o mancati allarmi. Occorre una maggiore attenzione sul tema fondamentale dei braccialetti elettronici. Non possiamo lasciare le donne vittime di violenza da sole. E soprattutto bisogna anche rivedere il contratto con FastWeb per garantire la massima funzionalità di questi fondamentali dispositivi. Non è possibile permettere che ci siano delle falle nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza, perché ogni ritardo, ogni errore può impedire di salvare una vita, come è accaduto nel caso di Celeste, di Carmela e di Rua. Quindi chiediamo al Ministero quali interventi urgenti, immediati, intenda adottare per garantire la funzionalità dei braccialetti elettronici. Per affrontare le criticità del funzionamento del sistema di monitoraggio effettuato con l'ausilio dei braccialetti elettronici, dalla fine del 2023, come ormai è noto, è operativo presso il Viminale un gruppo di lavoro interforze, congiuntamente al Ministero della Giustizia e alla società fornitrice. L'obiettivo è quello di individuare possibili soluzioni alle criticità rilevate e quindi migliorare il servizio. Sono pertanto in corso iniziative a volte principalmente a razionalizzare il sistema degli allarmi provenienti dal braccialetto elettronico, al fine di consentire alle forze di polizia di intervenire rapidamente in presenza di situazioni che rappresentino un effettivo pericolo per la vittima. Su questi temi, nella giornata di ieri, si è tenuta al Viminale una riunione tra i Ministri dell'Interno e della Giustizia, nel corso della quale sono stati ulteriormente approfonditi gli elementi di criticità connessi all'uso del braccialetto elettronico relativamente ai comportamenti di stalking e condivisi possibili interventi sul piano operativo e laddove è necessario su quello normativo per il superamento delle difficoltà applicative. Talune proposte sono state recepite dal fornitore del servizio che sta ponendo in essere accorgimenti tecnici utili al più efficace funzionamento del servizio. Assicuro pertanto che nelle more delle ulteriori soluzioni che saranno messe in campo è costante l'impegno delle strutture competenti per fare in modo che la funzionalità del sistema di prevenzione incentrato sui braccialetti possa migliorare sempre di più e che le forze di polizia intervengano tempestivamente rispetto a ogni situazione di rischio e pericolo per le potenziali vittime. Lo sa, Ministro, cosa diceva la signora Celeste Palmieri prima di morire? diceva mi sento la morte dietro la schiena e aveva ragione. Lo sa, Ministro, cosa significa vivere con una sensazione di morte H24? È la sensazione che vivono le donne vittime di violenza, vivono nella paura, nel panico, nell'angoscia e questa non è vita. Un governo dovrebbe essere tecnicamente competente, ma anche e soprattutto umanamente competente. Nel 2024 viene ammazzata una donna ogni tre giorni e in tre casi su quattro chi lo fa ha le chiavi di casa. Questa tragedia sta avvenendo anche davanti ai vostri occhi. Non dovremmo neanche essere qui a fare questo question time. E io vi chiedo quante donne ancora devono morire. Bisogna che capiate che la violenza sulle donne è un fenomeno criminale strutturato che deve essere trattato al pari dei fenomeni criminali di mafia e terrorismo. E non sono ammessi errori, ma soprattutto non si può perseverare nell'errore. Non si può sbagliare, perché un errore può significare morte. E bisogna ricordare che dietro queste donne ci sono, il più delle volte, dei bambini che sono costretti a crescere senza una madre e con un padre omicida. Famiglie devastate, distrutte. Chiudo, Presidente, dicendo che io vi supplico di ascoltare le grida di aiuto, di dolore di queste donne che si sono fidate dello Stato e hanno fatto tutto quello che lo Stato chiede di fare, denunciare. E non ascoltarle significa tradirle, ma significa soprattutto che saremo sempre una di meno. E lo Stato non può e non deve permetterlo. Grazie. Grazie a lei.